ciao a tutti amareggiatissimi signori che state guardando questo video oggi dobbiamo fare le pagelle di via real juventus con la speranza che possa essere poi un passaggio del turno totalmente meritato da parte della juve ma siamo andati a letto con la consapevolezza che ieri sera non si è fatta una gran partita per niente proprio per niente e ne parliamo qua cerchiamo di analizzare un po gli episodi anche i singoli giocatori e l'allenatore per cercare di capire chi ha sbagliato e chi no anzi in realtà sull'allenatore ho deciso di fare una puntata parte delle pagelle che vi faccio uscire questa sera quindi per il momento vi parlo dei giocatori poi qualche spunto in realtà lo darò anche su allegri per forza di cose però credo che queste siano esattamente le partite in cui è necessario parlare dell'allenatore con un focus principale mettere una luce su massimiliano allegri tipo interrogatore quando metti la lampada e parlare di tutto quello che è stata la gestione di massimiliano allegri e quella che sarà la futura gestione di massimiliano allegri da qui al fine della stagione e forse vedremo poi se ci saranno altre stagioni di massimiliano allegri perché ormai di questi anni qua ragazzi non si può più stare tranquilli sul discorso allenatore cambiamo come se fossero mutande e quindi parliamo solo dei giocatori parleremo ovviamente di blaovic e di quella bellezza rara che è stato il suo il suo gol all'esordio dopo 30 secondi e proprio tal proposito vi invito in descrizione troverete il link per ascoltare un podcast di generazione fenomeni in cui si parla proprio di dujan blaovic imperdibile podcast gestito da one football link per scaricare one football è qui sotto in descrizione oppure potrete fare una foto con la fotocamera del cellulare al QR code per scaricare gratuitamente l'applicazione che vi farà vedere anche come andremo avanti perché adesso c'è l'Empoli in campionato lo so che siamo lì che diciamo vabbè l'Empoli all'andata ci abbiamo perso dall'Empoli quindi one football Scesni 6 e mezzo io credo che la partita di Scesni ieri sera sia stata pienamente sufficiente c'è stata anche quell'occasione in cui va a parare quella palla dopo una deviazione di Danilo e poi è stato attento in altre due o tre occasioni quindi di ieri sera non ho veramente nulla da recriminare secondo me Scesni si porta a casa il suo 6 e mezzo e dorme abbastanza tranquillo qualcuno ieri nei commenti mi ha scritto leggo tante critiche ad Elite, tante critiche a Rabiot qualche critica ad Escilio ma secondo me è colpa di Scesni io vi dico proprio che quel gol lì Scesni poco 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 ci poteva fare quindi credo proprio che il 6 e mezzo sia il voto giusto Elite 6, sì 6, perché? perché purtroppo aveva fatto una partita incredibile incredibilmente elevata, incredibilmente grande e poi effettivamente dopo che me lo sono andato a rivedere il gol che prendiamo secondo me la gran colpa, la gran percentuale di colpa è da parte di Rabiot e tra l'altro Massimiliano Allegri ha i microfoni vedendo la live questa cosa che cosa dice? dice sì, è Rabiot che non segue, non fa assolutamente menzione rispetto a Elite secondo me qualche colpa di Elite c'è perché se giochi in una difesa a tre e quindi ieri sera Matais era il centrale di sinistra non puoi essere così spostato verso quell'altro attaccante quindi poteva essere semplicemente un po' più staccato verso sinistra che era la sua posizione naturale da ricoprire lui stesso alle telecamere va a mettere tutti gli errori ma lì è perché è una pasta diversa ragazzi lui è veramente un giocatore differente e quindi si assume le responsabilità come leader, come capogruppo è ovvio che Rabiot per forza di cose lo deve asseguire quindi una piccola percentuale di Elite c'è e quindi il voto si abbassa non penso che si possa dare insufficiente comunque a Elite per una prestazione del genere non penso proprio sebbene ci sia quell'errore di posizionamento perché ancora una volta ragazzi è semplicemente in anticipo superlativo nell'uomo contro uomo superlativo nelle letture impeccabile quindi davvero se stiamo continuando in questo momento in cui i risultati sono 1-1 comunque pareggi a non perdere tanto passa dalla testa di Matthijs de Elite quindi io gli do un 6 che ha abbassato la valutazione rispetto all'errore che ammetto possa esserci, possa starci parlare di errore anche di Elite se mi parte solo di errore di Elite invece non ci sto assolutamente no perché Rabiot semplicemente lascia andare l'uomo ma ne parleremo dopo Danilo 7 l'altro centrale secondo me hanno fatto tutti e due una prestazione incredibile Danilo poi ci mette anche l'assist per Vlaovic gli va bene a Danilo nel primo tempo dopo quella scivolata dove poi il Villareal becca al palo però Danilo ha fatto una gran partita ragazzi Danilo veramente ti sta facendo vedere cosa vuol dire essere cuore e spirito Juventus è un giocatore che ormai è entrato nel mio cuore e ieri sera dicevo mi ricorda un po' Barzagli per il tipo di giocatore che è non per il ruolo non per l'efficacia non per il livello ma quel tipico giocatore che lo metti centrale lo metti terzino quel tipico giocatore che ci tiene la causa che è innamoratissimo della Juventus ma è una parola fuori posto leader silenzioso mi ricorda davvero Barzagli Danilo io sono veramente contento della prestazione che ha fatto ieri quindi il suo 7 se lo porta a casa Alexandro che era un po' il terzo centrale difensivo del 3-4-3-3-5-2 chiamatelo come volete 3-5-1 chiamatelo 3-6-1 come vi pare davvero come vi pare perché è stato a tratti una cosa a tratti un'altra una specie di minestrone diciamo così Alexandro secondo me ha fatto una buona partita da 6 eravamo un po' tutti preoccupati anche vedendo capitano da Juventus Alexandro l'ultimo precedente in Champions era stato col Porto l'anno scorso non era andata assolutamente bene 6 poi esce per far posto a Leonardo Bonucci che diventa poi anche lui il capitano in questa serata europea della Juventus anche Bonucci non c'è niente di trascendentale non dei grandi errori non dei grandi meriti c'è stato un paio di situazioni in cui si sono gelate le vene si è gelato il sangue con un paio di letture forse non lette perfettamente bene però se è solo a Porta a Casa di sufficienza penso proprio che Bonucci si possa ragionare nell'ordine della sufficienza per il secondo tempo fatto sebbene il secondo tempo non sia stato impeccabile a parte la Juve e ovviamente quando ricco impeccabile intendo brutto De Sciglio 5 e mezzo 5 e mezzo perché ha sofferto terribilmente il loro esterno di destra era sempre un continuo puntare De Sciglio puntare De Sciglio puntare De Sciglio De Sciglio faceva fatica poi De Sciglio non ne aveva più a un certo punto è vero ragazzi De Sciglio non ne aveva più cioè non ce la faceva infatti poi finisce quei crampi ma quei crampi nel nel cervello di De Sciglio iniziano tempo prima perché l'ossigeno non ci arrivava più perché ha completamente finito la benzina era riserva assoluta non una gran partita di De Sciglio siamo sempre lì De Sciglio per quanto mi riguarda deve essere la riserva della Juve nel momento in cui ti ritrovi a giocare gli ottavi di finale eliminazione diretta di Champions con De Sciglio titolare significa che le cose non stanno andando come per l'indivato come messe giù sulla carta non dovreste arrivare a giocarti l'eliminazione diretta in Champions con De Sciglio titolare però siamo siamo a questi livelli qua adesso per forza di cose siamo contati quadrato 5 non ci siamo qua non ci siamo per niente adesso in un turbinio di polemiche per via del reel che l'altro giorno ha messo sulle storie a proposito dell'aborto secondo me le cose extra campo devono rimanere fuori dal rettangolo del tifoso no? è difficile andare a parlare a valutare un giocatore in base a quello che pensa ci sono persone come noi ognuno ha la sua idea magari ci sono anche posizioni più estreme a riguardo io lo valuto per quello che sto vedendo e da qualche partita a questa parte con Quadrado non ci siamo ragazzi con Quadrado non ci siamo è qui è qui cioè non sta boccheggiando ma non solo nel dribbling non solo nell'uno contro uno nei passaggi negli stop nei cross ragazzi Quadrado non mette più un cross fatto bene da inizio anno dal 2022 un paio di mesi forse tre mesi qua due mesi non mette un cross fatto bene ma non è possibile Quadrado era proprio il top per il cross e adesso siamo a questi livelli qua quindi poi ieri vabbè in un ruolo diverso esterno nella difesa tre però secondo me non ci siamo e secondo me la partita di Quadrado era cinque secca Locatelli cinque e mezzo Locatelli è un altro di quelli che nel primo tempo secondo me girava Locatelli e nel senso apertura una parte dall'altra cambi di campo cercare sempre l'esterno libero che poteva attaccare aggredire quello spazio che veniva lasciato per forza di cosa la Villareal si spegne Locatelli si abbassano i giri del motore di Locatelli e si spegne anche la Juventus purtroppo Locke anche lui da qualche partita a questa parte Locke davvero non riesce a reggere la continuità è un problema di tenuta fisica di tenuta mentale è un problema che è arrivato a questo punto della stagione con tante partite una dietro l'altra sta iniziando a far fatica a gestirle dato che non le ha mai fatte in carriera non lo so so solo che in questo momento un po' pannato anche Locatelli e si becca su cinque e mezzo Rabiot quattro e mezzo dopo di Rabiot parleremo anche nel video di Allegri perché ieri sera vabbè non spoilerò niente ma vi dico solo che per abbiò e quattro e mezzo per un motivo secondo me stava facendo anche una buona partita ci sono state tante volte che che dicevo oh sì palla recuperata oh sì copertura effettuata poi c'erano i momenti in cui lui era palesemente fuori posizione si girava chiamava il compagno diceva vai a marcarmelo te vai tu a recuperare su quello gli avevano detto pochi minuti prima attenzione che loro ti tagliano dietro attenzione che ti fanno quel movimento lì è rabbio ragazzi io riguardo il replay del gol lui lo guarda si gira lo riguarda non c'è più si accorge che è dietro non fa neanche niente per intervenire ma non è solo questo non è solo l'errore del gol ma anche il rosso che doveva pigliarsi pochi minuti dopo ma che entrata è ma che intervento è ma che cosa stiamo facendo e poi lui quando si spegne un po' come gli altri parlavamo prima di tenuta fisica locatelli di sciglio quando lui inizia a calare fisicamente non è che ti dà quell'impressione di iniziare a sbagliare magari no completamente scompare dai radar se prima magari stava facendo anche una prestazione fatta bene basta non ci mette più la gamba o se ce la mette te la mette così a quanto pare esce dalle azioni non marca più non entra il vigo del gioco non chiama il pallone non se la va a giocare Rabbio sarà sempre il tipico giocatore del quale non riuscirò mai ad innamorarmi non ce la farò mai è inutile è più forte di me almeno che non mi faccia vincere la Champions che inizierà a fare delle prestazioni in cui mi risolverà tutte le partite e mi verrà a vincere la Champions allora per forza di cose poi mi innamorerò ma ormai credo che sia arrivato una specie di punto di non ritorno nel rapporto tra me e Rabbio e dispiace poi non sono qui a dire ecco quando giocherà Rabbio sarò il primo a non ti farlo e spero che faccia male così no continuerò a sperare che faccia bene ma un giocatore del quale non sono innamorato appunto penso che tutti noi abbiamo passato almeno una volta nella vita a pensare nei rispetti o nei confronti di un calciatore no questo non mi piace questo per me era più McKennie 6 e mezzo finalmente una partita in cui McKennie stava ricominciando a fare il McKennie e secondo me c'era mancato tanto McKennie in questa prima parte no di ultima parte scusate di stagione in cui le sue prestazioni erano un po' sottotono per quanto mi riguarda e poi la brutta notizia la frattura al piede vedremo quando rientrerà purtroppo sarà uno stop lungo e lo accettiamo ragazzi cioè che cosa vi devo dire il ginocchio di chiesa il piede di McKennie questa purtroppo è sfiga cioè non si può parlare di preparazione fatta male no questa è sfiga cioè stiamo parlando di traumi all'osso al ginocchio cioè è proprio sfortuna nel momento clou della stagione questi vanno a farsi questa roba qua cosa vi devo raccontare io cioè non so neanche più come spiegarla questa cosa questa purtroppo è mala sorte e ci fermiamo lì però una buona partita siccome di McKennie se la sei a mezza è il migliore del centrocampo sei ad Arthur che quando entra ci mette il suo il solito palleggio la solita gestione della palla niente di eccezionale però lo sei pure a Morata che secondo me fa la sua partita poi ci sono sempre quei limiti no quando arriva in area Alvaro Morata è freddo boh non lo so è freddo come un termosifone acceso d'inverno quindi diciamo che rivedibile sotto porta mi viene in mente quella palla di McKennie cavolo sbagliamo un'opportunità un'occasione incredibile per il resto al solito Morata tanta generosità forse un po' troppo impeto un po' troppo a fuga poteva dar via un paio di palloni prima rispetto a quanto ha fatto in realtà la solita generosità una partita da sei piena completa però siamo lontani dagli standard di una partita di questo tipo in Champions dobbiamo aumentare ragazzi se non aumentiamo in questo momento non andiamo da nessuna parte Vlaovic sette e mezzo perché semplicemente lui dopo trenta secondi ti va già a indirizzare la partita dopo trenta secondi trenta eh non ha mai giocato in Champions League sfida eliminazione diretta trenta secondi in trasferta palla lunga la mette giù di petto tira col piede debole fa gol nell'angolino basterebbe questo per spiegare la sellata di Vlaovic poi tanta lotta tantissima lotta un paio di sportellate un altro tiro in porta in cui il portiere deve impegnarsi perché la palla gira anche in un modo strano una buona sponda per Locatelli però non gli sono mai arrivati i palloni ieri sera Vlaovic Vlaovic ieri sera è stato completamente abbandonato a se stesso come con la partita col toro poi il fatto che lui comunque ti riesca a fare gol ti fa capire quanti pericoli riuscirebbe a creare poi eventualmente se decidissimo di accompagnarlo in maniera dignitosa come abbiamo provato a fare nel primo tempo senza riuscirci e come abbiamo completamente rinunciato a fare nel secondo tempo quando abbiamo detto basta io non gioco più quindi bene Vlaovic benissimo Vlaovic perché all'esordio in Champions League dopo 30 secondi se ti presenti in quel modo lì significa che la pasta quella di Delete di cui parlavamo prima ce l'ha anche questo signore qui curioso di vederlo nel ritorno perché voglio vedere quanto può spingersi in avanti anche in Champions League uno come Dujan Vlaovic pienamente soddisfatto della sua prestazione ribadisco ieri sera sembrava Don Quixote che lottava contro i mulini a vento perché purtroppo ci siamo adagiati su questo lancio lungo su Vlaovic che era un po' la mia paura vi dicevo attenzione perché l'arrivo di Vlaovic ci dà anche l'opzione del lancio lungo sulla punta ma non deve diventare solo l'opzione del lancio lungo sulla punta perché è vero che Vlaovic è un giocatore che ama gradire la profondità l'abbiamo visto in occasione del suo primo gol con la Juventus con la palla di Dybala l'abbiamo visto ieri sera in occasione del suo primo gol in Champions con la palla di Danilo lui ama a gradire la profondità però non lo può fare per 90 minuti come unico modo per cercare di lanciarlo non è questo l'unico modo per cercare di lanciarlo Vlaovic anzi secondo me è il modo più sbagliato a ripetizione perché lo vai a sfiancare lo vai a distruggere poi lui ha anche una buona tenuta fisica però ragazzi una partita di scatti una partita di scatti quindi piano atletico e una partita fisica perché comunque oltre agli scatti c'ha la marcatura sempre uomo del difensore e diventa una partita difficile e io capisco che abbia 22 anni però diventa veramente una partita difficile cioè bisognerebbe cambiarlo a fine primo tempo in una partita del genere perché non ce n'è più 7 e mezzo molto molto bene Vlaovic e poi verso sera parliamo anche di Allegri perché secondo me ci sono diverse cose da dire sull'allenatore poi fatemi sapere un po' anche voi cosa ne pensate dei voti ai giocatori e stasera invece vediamo di parlare solo di Allegri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti